Oltre 10.000 contravvenzioni, la gran parte per violazione al codice della strada, 12 i veicoli sequestrati, 3 patenti ritirate, 14 sanzioni per abbandono di rifiuti, 4.000 risposte al centralino, 2.600 persone ricevute al comando di piazza 20 settembre. Sono alcuni dei numeri che segnano il bilancio di un anno di attività della polizia locale di Castel San Giovanni. Il comandante Marco Andolfi ha fatto il punto in occasione della ricorrenza del patrono, San Sebastiano. Il momento di scambio con l'amministrazione comunale ha dato modo di passare in rassegna le dotazioni, tra cui 67 telecamere, bodycam, giubbotti antiproiettile, fototrappole, dotazione a cui potrebbe aggiungersi anche lo spray al peperoncino. Come potrebbe esservi di supporto uno strumento del genere? Sicuramente è uno strumento non invasivo ma che permette una tutela sia del personale sia verso terzi in caso di aggressione. È comunque uno strumento che non porta a nessuna conseguenza letale ma appunto permette un'attività dissuasoria nei confronti di quelle persone che comunque creano pericolo per l'incolumità appunto delle pertuglie o dei terzi. Entro l'anno il comando dovrebbe traslocare al primo piano dello stesso palazzo comunale dove sarà possibile allestire una sala di comando dedicata unicamente alla videosorveglianza. Ci saranno i monitor che racchiuderanno tutte le videocamere presenti sul territorio che ricordo sono circa 70 al momento ma ne sono in previsione l'installazione e la realizzazione di un'altra decina. Ci sarà una sala radio operativa per i collegamenti delle pattuglie sui territori attraverso sia le pattuglie appiedate che sulle pattuglie mobili. Nonostante le 1670 ore di pattugliamento i castellani reclamano una sempre maggiore presenza delle forze dell'ordine. L'attività burocratica interna è aumentata a livello esponenziale. Capisco la richiesta dei cittadini di intervenire, di avere una presenza sul territorio ed è quello che noi vorremmo dare ai cittadini. Purtroppo però il numero esiguo di agenti al momento, ricordo che siamo 8 compreso il sottoscritto e l'enorme attività interna non permette sempre di essere presenti in tutta la realtà territoriale. Anche per andare incontro alle richieste in estate gli agenti durante i weekend e le manifestazioni cittadine hanno protratto l'orario di servizio fino alla mezzanotte.